Adesso me lo succhi fortemente e facciamo il cala. Se... se... Cazzo tuo... no vabbè dai, dimmi. In genera la sfera aggiuntiva della super è un impulso curativo all'attivazione della barricata. Che cazzo è? C'è il cimerio alfa sul... sul titano. Beh, stai guarda che devo andare anch'io sul titano. Sul titano sul nessus. Eh, 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 lo so. Lo so, abbiamo fatto... abbiamo fatto le sfide con tuo fratello, gliel'ho detto io di non... di non darglieli. perché poi, cioè, andavi a sgrammare e non sapevi cosa ti aveva dato, cosa sì, cosa no. Cioè, non l'ho fatto un cattiveria. No, no, infatti l'ho fatto anche bene. Perché poi manchietti trovi in arma, eh, non sapevi. To, andiamo su Nexus. Ragazzi se vi ho preso a parla con qualcosa. Sì, si va tranquillo, va, va, va. Qui si trova pieno, eh. Vabbè, un po' io ho spiegato, eh. No, vabbè, no, guarda che... Eh, eh, lo sto portando indietro, ciao. Assolutamente un attimo, io lo scrivo. Sì, sì, sì. Sennò... Sennò ti guardo il giusto, che mi hanno detto, vi faccio fare... Eh, è il cara di un favore con l'altro. Eh, ma... Se giochi... Allora, ormai il gioco è partito. Cioè, io e Luca... Luca c'ha 3pg, io uno e due, non si sta più fermi. Fra Calas, anti-ride, non si sta più fermi. Eh, guarda dove non lo faccio prima recupero. Però, aspetta che... No, perché sei solo uno stronzo, perché adesso potremmo anche partire, come mi hanno fatto tutti, il primo ride, il primo giro così. Poi, dopo, quando partivamo bene, incrocevamo i drop. Cioè... Perché adesso c'era lui, noi lo trovavamo velocemente. Capito? Non è quello, il cara anch'io lo volevo fare, però il cara lo possiamo fare anche a lunedì sera. Capito? Il ride no. Io preferisco arrivare al posto, avendo visto com'è... Bello pompato. Perché così, infine, non andiamo a nessuna parte. Cioè... Non gli facciamo un cazzo. Cioè... Non è quello l'altro... Dio chi향la youtube senza attrattarti... Gli Pan... Di marco, dunarco, di ballin lì... O. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Tanto in un modo o in un altro lo tirò su. Ma non è quello. Eravamo dentro, facevamo un veloce po' basso. Ormai facciamo il cara. Prima riuscivamo a fare il pop. Adesso non si riesce più. Tranquillo. Andrò arriva. Guardiano a terra. Vabbè, ma la gente ha una vita anche, Luca. Se non abbiamo una vita è un problema nostro. Eh, c'è da reclutare persone. Io su The Tower persone non mi recluto. Ehm, super... Oh, minchia. Darbul la mettono, super Dragon Ball. Ah, comunque, ok, ho preso Dragon Ball. Quando vuoi ti sfido, Checco. Saiyan contro Saiyan. Senza ombre di dubbio. Saiyan contro Saiyan. Ah, vabbè. Dreadlock Xenoverse 2. Eh, non ce l'ho più. Eh, è un problema tuo, vedi. Già ti pisci. Beh, fai bene. È bello forte il mio, fai bene. Mi sembra che sono 84, 92, quindi. Non ce l'ho più da una vita che non ci gioco più. Non ce l'ho più da una vita. Avevo visto che giochi chiamano ogni tanto. Ma poi non ero così. Io non giocavo tanto in live. Mi spaccavano malamente. Sì, anch'io ho letto qualcosa, però, boh, non ce l'ho capito un cazzo. Allora, introduce e parla di Super Buu in versione Gon Assorbito. Bello. Bello. Poi sarà presente Zamasu come maestro. Ci sta, ci sta. Era ora che ci insegnava sta fusione di merda. Ed Arbula, che secondo me vale un cazzo. Alla fine, Arbula, sai cosa sarebbe? Nella mitologia greca, così. Quello che crea i demoni. Capito? E dall'argilla, sputa sull'argilla e crea i demoni. Capito? In tutte le mitologie. Adesso non mi ricordo come si chiama. Nella mitologia cristiana. Però è così. Sì, dai, dove andiamo che è? Mi è rimasto per andare. Vai, vai, titano e terra. Perché l'abbiamo fatta. L'abbiamo fatto vedere tutto. L'abbiamo fatto a un giro. Beh, intanto che tu ti fai il tour, allora. Mica io devo togliermi sto visto di fumarmi una sigaretta. Poi dopo mi viene ancora più voglia di fumare un cannone. No, perché io non ho mai fumato una sigaretta. Sempre fumato una sigaretta per togliermi la voglia del cannone. Ma come prima si unisce e poi abbandona? Ma è dentro quell'altro joystick. No, è dentro quell'altro joystick. Ah, faccio me. Con il Nacon non può connettersi. Quando le cuffie scariche entra con l'account della murosa perché non può connettersi col cavo, se no, fa eco. Capito? Mmh. Quindi è meglio che aggiungi una persona. Figa, fidati. Ma come no, è meglio no. Ma figa se è meglio. Te lo dico io. È meglio. Facci tu il tappo in cuore. Cos'è? Vincita, che cazzo. E c'è, non pa' cazzo, c'è preso una con dei cinesi. No, beh, io non ti credo. Che ecco quando vuoi. Io sono qua, eh. Non li spengo nemmeno i propulsori, eh. Su Titano. Ha piovuto sempre metano, eh. Cioè, la caratteristica di Titano è quella. Fidati, se tu che non ci ha mai fatto caso. Che velocità. Eh, abbiamo. Guardiamo a terra. Bello. Che casco è? Ah, quell'ottomano. Eh, ma sai che io... Allora, io adesso stavo pensando di far così. Mi faccio. Eh, parte pure per la terra quando vuoi. Sì. Faccio il cacciatore, lo faccio a vuoto. Poi, appena ho fatto tutti e tre bene, mi faccio l'armatura a fuoco per lo stregone. E poi, bra, 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 per gli altri. Eh, perché io, lo stregone a me piace a fuoco, ragà. Io l'ho messo ad arco per la squadra, ma lo stregone a me piace a fuoco. Dottemi qualcazzo che volete, è violento a fuoco. A fuoco gli stupra a tutti Cioè a fuoco gli metti Fusione, ciao Ciao, mica essere Che non si Eeeh Bisogna saperlo usare Io che sono bravo con le granate Sono buono con quel mirino Capito Cioè mi fermo Mi fermo a mezz'aria Mi rompo Ho shottato il boss Alcala Eeeh L'importante è che hai Tutte le abilità Quelle che ti dà a livello 280 Io oggi per quello volevo farlo Cioè oggi Non può che volevo farlo il titano Per portarlo 280 Così almeno riuscivo a comprarmi anche qualcosa Eeeh Sì Ma è quello punto di fusione Quello Io non ho capito cosa intende come punto di fusione L'ho visto L'ho visto ma non intendo cos'è Cioè No quello gli lancio due granate Io l'ho visto Gli lancio due granate Qua capitare lo shott Ah no è vero che Boh Non lo so Tanto adesso lo devo far col titano In ogni caso Anche volendo Dai Mi sono buttato dentro Dai Poi buttarlo così Sì ma hanno No un minuto Un minuto Quella con i darti La seconda Eh non me ne ricordi Perché non ci ho guardato ancora Io infatti cabolo Oggi non lo faccio No oggi Oggi erano veloci Su io Su io ne faccio Di tre direttamente Eh ma già ne hai fatte tre Su io Eh Minchia stavo facendo su Però Cabal di merda Oh io me ne vado Anzi fammi Fammi richiedere la partecipazione Me ne vado Sembra che i caduti Stiano portando una trivella Per essere lumen Tieni gli occhi ben aperti Guardiano a terra Sai che avevo tolto le bucce Cos'è che stavi dicendo La cognizione di cose Ok Ok oh vedetemi quando si sblocca la cassa sull'occasione mani impegnato hai fatto la donate che mi hai preso c'è da fare come facciamo con suo fratello noi dobbiamo pensare a farlo diventare eroico e basta poi dopo anche se si è verso abbiamo fatto così mince oggi abbiamo fatto un macello anche quella dei corrotti abbiamo scoperto come farlo diventare eroica sai che non lo sapevo io e devi distruggere tutte le piaghe sai che escono le palle distruggi tutte quelle perché c'era un altro minchia quindi si è riuscito a girarlo a guardarlo un po' poi vabbè c'era suo fratello che comunque sveglio sapeva dove andare mazzaro facevo poi dice via si spostava una squadra di estrattori di lumen abbattili vedi io sono da sudare vedi io sono oro vedi io sono daci vedi io sono daci qui vedi io sono daci vedi io si chialo minchia dai questo costo muro così però l'altro bel gruzzolo di lumini guardalo con le abilità solare un po' anche per te eh? vedi come le imposte io le abilità che... hai visto come? hai visto quanto c'è messo al caricarlo super? eh minchia sono arrivato qua c'è la vo carico fatti martelli ma che cura vabbè oggi ho già fatto un macello di sfide ho fatto un macello di sfido io checco dov'hai checco? tu qua checco checco specchio riflesso specchio riflesso eh beh con questa non posso dire non posso non posso diventare super saiyan aspetta io devo ancora finire di chiudere ok dai hai fatto te carci chiusi allora facciamo così andiamo in un'ambito che sono più tranquillo mi piace il tumore dello spazio minchia mi sembrava strano aspetta aspetta zitti ok sono senti con le cuffie dimmi io sto arrivando stai giocando tu? eh siamo dentro stiamo per fare cala con i secondi personaggi vabbè comunque siamo dentro ok poi ti voglio dire una cosa stai non è che ti serve un divano nuovo bellissimo a parte gli scherzi perché la sorella ha cambiato cosa non c'ha manco prova a mandarmi due foto prova a mandarmi due foto a me servirebbe prova a mandarmi due foto e mi faccio due conti è quello che si apre anche per le gambe boh tu prova buona tu prova a mandarmi due foto e mi faccio due conti vedo vedi con il mio modo di fare che ho pensare che mix è tanto diverso da mezza sai con il mio modo di fare che ho io so quello che faccio con certe persone tu non capisci alcune volte sembra che la pazienza non ti ripaga tu invece devi essere paziente alcune volte no io adesso è una cazzata non c'è nessun interesse cioè se me lo porta giù lui a 50 euro io lo compro forse non hai capito capito? quello intendo che poi ognuno c'è cazzesuo io poi son fatto in sto modo son buono e caro finchè non mi metto un dito nel culo però finora non mi è successo che sono rimasto così bruciato le persone piuttosto litigavo per le mie paranoie e poi dopo ho scoperto che erano bere che magari la persona che dice questo si comportava lo stesso modo però con un altro oh io sto continuando a bere birra ci vuole di Coca-Cola cioè pensa quanti è tossica quella merda di Coca-Cola ci dovrebbe pensare però mi son preso male ho detto che cazzo ci fa sta canzone su destino ahiai ahiai che tu coglioni allora fai vedere un attimo io sono a fuoco Luca quindi organizzatevi vabbè che ecco è ad arco lui quindi siamo a posto allora oh no si adesso spostati bomba nuova tanto non ti serve più già fatto perfetto io impulsi a fuoco l'importante raga quando arriviamo ai primi cerchi centurione minotauro pulizia anelli vex finchè non escono i minotauri decidiamo quali minotauro quello di sinistro quello di destra eh quando ti dice elimine vex ok c'è presente che dopo che hai pulito il centurione il primo minotauro che vedi fai gli anelli e poi scendi cioè scendi e fai gli anelli ti rimangono quelli dove devi passare dopo che comincia a sparare escono i minotauri quale prendiamo? a me conviene a destra voi avete più visuale io quello a destra ce l'ho meno se lo prendiamo quello a destra è meglio se no con la sinistra ce la faccio ok un attimo che stavo finendo ad equipaggiarmi faccio due tiri ma te l'hai detto tuo fratello che gli ho fatto fare il cane che no eh non se l'hai cavata dai non se l'hai cavata male cioè per aver fatto le pattuglie poi il cane è andato bene a me non fatti oggi quando lo hai fatto fare un po' di sfida ho visto un po' si è a difficoltà anche lui a saltare con lo stregone neanche tanta però lo stregone è così bravo ecco tutto quanto può fare un cazzo no sapete cos'è che voi non guardate in alto dovete come ti posso spiegare eh devi saltare al primo piano al secondo piano guardi al terzo capito dove abitavi prima te che adesso ho visto casa ho visto quei palazzi ultimamente quello capito e tu così cosa fai quando salti e in teoria tu lo sai che sei lì guardi verso il basso e lì con la visuale ti giri cazzo lui vola proprio vedi che fa troppo mica vai che lo stregone se lo stai usare fa paura quando devi fare i salti precisi no lì anch'io impazzisco eh però adesso ho notato gli aumenti la mobilità e via io anche il titano adesso gli ho lasciato uno cazzo me ne frega io mi trovo mi trovo che cazzo me ne frega sono punti guadagnati così proprio vuoi provarci sì ma se non riusciamo non è che proviamo a fare 100 run cioè se vediamo che è fattibile se è fattibile eh se è fattibile ok orco dio minchia ah ma comunque mi ha fatto firmare un contratto come capucrana ma oggi quando ho fatto le partite guidate capito per destini proprio mica mi ha fatto firmare il trattato dei guardiani figlia roba serio ti giuro c'era tutto scritto io giuro che sarò equilibrato nel insegnare anche le mie tattiche ti giuro e se non lo accettavi entro il tempo dove rifiutare io l'ho letto questo mi sembrava proprio un contratto contratto quindi io io l'ho letto bene sì che non cioè adesso in sostanza non puoi uscire che sennò ti tolgo non ho capito che punti da dove da cosa sostanzialmente ah può essere può essere eh ma dovremmo lu ma già se oggi eravamo io e te lo facevamo eh lo facevamo alla grande proprio alla grande quando loro ancora non riuscivano a saltare i cerchi io ero sotto che sparavo all'arpia a un colpo prendete i cerchi prendete i cerchi è chiaro che suo fratello minchia l'ha provato nella beta l'ha provato nel calabo panico cioè non è che era in panico però c'è la situazione da panico dici minchia questo mi spara un colpo mi ha shottato però boh mi ha fatto due minuti no 30 secondi ha fatto poi ho detto andiamo giù quando ho visto che siamo arrivati allo stesso tempo 30 secondi e abbiamo sprecato lì ho detto giù però siamo arrivati al secondo step sì al secondo step secondo step del boss dove deve far sta cazzo di puttana adesso settimana prossima questo che l'ho portato ad 80 no sai cos'è che quando ti metti quando ti metti devi farla deciso dice boh la faccio io e te non abbiamo accesso dice che ecco mi dice che può accedere ma io e te no è così mi dice perché si vede che che ecco no si vede che ecco ho già fatto il calen normale e quindi ce lo sblocca può essere ah ma aspetta 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 un attimo cerchini a sfida i nemici sono più forti e intelligenti il tempo a disposizione è minore non potrei cambiare il tuo appoggiamento dopo aver avviato la missione modificatori prisma ah il prisma è vero i tre elementi aspetta che rispondono la mano Grazie a tutti. 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 No... Grazie a tutti. Grazie a tutti. e... ... 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 ah vabbè vabbè piccola bella finalmente vedi si merita una navicella però gli metto il suo colore no nella storia mix no abbiamo un bordello di roba da fare sincero no non c'ho lumen non ci credo aspetta adesso riprovo un attimo a fare il cala con loro che lo pigliamo lo facciamo al volo adesso il titano però lo faccio tutto in tinta armi, vestito, astronave si il robottino lo faccio proprio tutto in tinta si si la cacciatrice no adesso vedo la faccio tutta spacchiosa porca puttana 15.000 per mettermi su uno shader che io già ho abbiamo cacciato la legione russa e faremo la stessa cosa con la prossima minaccia buona allora 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 aspettate che pide ho tutto abbiamo bisogno di più guardiani come c'è tra i nostri ragazzi ma adesso l'hai sentita? si in teoria c'era alle 7 e un quarto arriva quando va alle 8 meno 5 ma no invece a me fa piacere ma hai detto dove ci vediamo? ah la stazione a nord ah il giorno d'arrivo? eh no se si fa trovare lì per te non è più comodo che passare in centro guarda che ce lo sa perché che sei quarto si si adesso la sento lì davanti al dopo lavoro come dice dal sotto passaggio guarda e vede dove sono? si tranquillo non è una bambina ah è ricrasciato? ah è già sul treno eh capito? non è la me che mi dai la mano è già sul treno eh ma adesso partirà perché no è già sul treno si si senti che adesso partirà perché sono le 7 e quattro mi sa che è già partito eh 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 è un gran… ecco come si chiama Luca è un gran brillante dell'avanguardia, è un gran brillante che cosa scusa no vi serve anche a luca luca chance no mi sa che quella te l'ampere alla fine e una volta che hai finito puoi andare lì o c'è da trovare o c'è da trovare la combinazione delle leve che però cosa ti aprono cosa ti aprono dopo aspetta che sto finendo di guardare le mie cose cosa ti apre e dove te lo apre sapito a me è andata di culo in quella dell'irrigazione non c'è la bianca l'abbiamo trovato e se vuoi ci abbiamo i link cioè tu basta che cerchi drain chest ti fa vedere allora un attimo minchia non c'ho lumen per infondere la roba no per questo si hai qualcosa per me no 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 aspetta un attimo andiamo a fumare ma che ti stava inculando quello che è guarda guarda ricorda